Alla vigilia dell'estate sta cambiando qualcosa nel decimo municipio. La sensazione è che mentre prima l'amministrazione faticava di incontrare le istanze che venivano dal territorio, dalle associazioni datoriali, questa volta, da pochi giorni, invece ci sono dei confronti serrati per cercare di risolvere problemi anche economici. È una sensazione giusta? Non è che da questi giorni. Da quando siamo stati eletti abbiamo dovuto inizialmente impostare un modello diverso rispetto alle precedenti amministrazioni. Quindi non è che non si è cercato il dialogo. Si è cercato innanzitutto di stabilire un modello nuovo, organizzare anche a livello organico un impianto per poter poi ascoltare e poter confrontarsi con tutte le realtà di attività produttive, commerciali, del settore della balnazione. Questo è un municipio talmente importante, ha delle potenzialità talmente elevate, al di là della popolazione turistica, ha delle potenzialità elevate. Parlo di municipio perché parlo sia del litorale e dell'entroterra che ha un settore industriale molto importante di cui spesso non si parla. Consideriamo il dialogo con le categorie, con le attività commerciali. È una cosa importante perché se si riesce a coniugare la valenza economica con il fine della pubblica utilità, io credo che per un'amministrazione è davvero un cambio di passo. Che estate ci aspetta sotto questo profilo? Considerato anche gli incontri che ci sono stati, profiqui, collaborativi, soprattutto sotto l'aspetto sia dell'ascolto, sia della valutazione e sia anche del supporto che siamo riusciti a dare a determinate categorie in questo momento, soprattutto visto che ci aspetta l'estate in questo periodo di Covid-19. L'amministrazione ha, diciamo così, avuto un ruolo anche più facile nel poter dare delle direttive, emanare delle ordinanze, perché il confronto ha portato proprio a questo. Io penso che, non lo so, voglio pensare anche al fatto dell'occupazione solo pubblico, per avere più spazio magari per i tavoli, per chi ha il commercio della ristorazione o per i bar. Penso a iniziative che si possono intraprendere sul lungomare, dare più possibilità. Sono stati presentati dei progetti e valutati. Io credo che questa sinergia possa portare solamente risultati positivi sul nostro territorio. Ed è quello che, secondo me, si aspettavano da tempo anche i cittadini. Quindi non è cambiata una strategia da parte del Movimento 5 Stelle? Allora, guarda, io posso dirti, non so se posso fare un riferimento personale, se me lo consenti. Io mi ricordo quando ci fu due anni fa, all'inizio del nostro impegno politico qui su questo municipio, impegno politico e amministrativo, mi ricordo che ci fu la serrata dei commercianti. Io venni a questo incontro da solo proprio per poter ascoltare. Per me il dialogo è stato sempre la forma migliore per trovare la sintesi politica. Intant'è che venni e, devo dire, ci sono state anche critiche nei confronti dell'attuale amministrazione che però da quelle critiche sono nate alla fine delle valutazioni che ha fatto l'amministrazione. Io credo che bisogna avere anche l'umiltà che se qualche volta qualcuno può correggere un errore da ambo le parti, non parlo solo da parte dell'amministrazione o da parte del politico, perché non è che siamo perfetti, no? Però io credo che alla fine un territorio così importante, che ha la sua colonna vertebrale all'interno di attività produttive, commercio, non può prescindere da ascoltare, dal confrontarsi e dal dialogare.